Sì, abbiamo fatto appena una premiazione internazionale al Teatro Dal Verme con Vittor Sgarbi e c'era anche Paolo e Marco Travagno che è del giornale, c'è quell'altro per la vera. Ma eccoci, non lo sapevamo, eravamo in onda, cari telespettatori, ce l'avevamo dei nuovi invitati e si sono raggiunti un proprietario del Radio 104, le vostre famose lezioni di stile che lo ascoltate ogni mattina il nostro caro Chico Lima, di nuovo con noi la nostra artista, un grande artista Mery e anche un nostro modello over, il regista di Radio 104, il signor Gianni Wilcoe. Buonasera, buonasera, a Shanté, a Shanté, con l'onore di essere qua davanti. Ragazzi, che dire, tutti eleganti, tutti fashion, siete secondo le tendenze, siamo nella settimana della moda, nel top, qui al centro conferenze Forte Fuente, sul nostro bellissimo lago di Como, Irina Tirzea per voi, ho evidentemente lezioni di stile, la Cliris Collection Milano. Vorrei parlare proprio di stile, se siete d'accordo. Come hai definito lo stile, signor? Come chi dice lo stile? Lo stile dipende da dove viene applicato, perché questo è lo stile su una costruzione, su un veicolo, su un vestito, su un modo di vivere. Lo stile è una definizione un po' vaga, bisogna definire lo stile in generale. Allora, lo stile in generale secondo me è una persona che si contraddistingue dalle altre, perché lo stile delle altre vuol dire che ha innatamente una dote che non tutti hanno, che è quella di scegliere il proprio look in base alle proprie occupazioni, esigenze, oppure serate, oppure lavoro, eccetera eccetera. Bravissimo. Io concordo, concordo tutto con lui. Tu, tu ti incontro. Per cui lo parliamo. Qui ce l'abbiamo un esempio, guardatelo bene, Matteo, inquadralo bene. Un esempio. Ho mangiato troppo a mezzogiorno perché mi sono stato diventato a picco. Con una setto, bella compagnia. Dopo 11 km di corsa, stamattina, loro mi hanno invitato, ho mangiato il primo, il secondo, e vino a acqua e caffè, è tosta. E tutto il resto. E quindi la pancia si è... Anche il dolce. Ma dobbiamo dire che l'attitudine è quella che conta, no? Il nostro Conte fa la corsa, anche con stile, no? Sul lago di Leco. Sul lago di Leco, tutti i giorni, 12 km. Allora, qui delle lezioni che fa la... Facciamo un appello al nostro caro, caro sindaco Brivio, il nostro amico di lezioni di stile. Stiamo provando di promuovere il nostro lago anche dal punto di vista dello sport, della salute, no? L'aria pulita, giusto? Bellissimo, poi c'è questo tragitto, questa pista ciclabile, mi sembra di 50 km, cos'è? E' bellissima, e c'è un sacco di giro. Domani sono già lì a correre. Comando? Sì, quindi lasci il tuo famoso lago di Garda per lago di Como, addirittura a Leco. Noi ti aspettiamo, è il nostro bel gruppo. Però lago di Como per me è molto romantico. Beh, quello è vero. Quello è vero. Noi siamo molto romantici, quindi è la settimana della moda. Sì. Invito anche la mia modella, guarda, lo vediamo qui, Zara, vieni qui con noi, dai, così dai il tocco di moda per questa sera, no? Qui ce l'abbiamo, una creazione con Couture, la tendenza di questo ottimo-inverno, per chi vuole, può trasgredire, non necessariamente a questi livelli. Lo vediamo in un'altra puntata, come si può abbinare questo abito, ovviamente, no? Sì, assolutamente si può abbinare. E' sempre lo stile, eh? E' sempre lo stile. E' sempre lo stile. Questione di stile, infatti. Questione di stile. Un'altra domanda per voi. Pensate che solo, si dice così, che il colore nero, il colore nero, no? E' elegante. Però considerate che è solo questo? O accettate anche le mie trasgressioni di colore? Per me il nero, quando sono incavolata nera, mi appesto di nero. Però oggi no, oggi no, perché è con te, è meganza. Però quando sono incavolata, quando mi vedo nero... Quindi ti stanno influenzando i colori, giusto? Avevo ragione. Ti ricordi cosa facevamo nella trasmissione di menzioni di stile, no? Che avevo martellato con questi colori? E' vero. E' il cambio di stato d'anima, è vero. Dall'altro, devo precisare che la scelta dei colori, non lo facciamo noi designer, l'ha proprio l'Istituto Pankhamon, dove c'è un'intera ricerca, che si basa anche sull'influenza della società, se lo vogliamo, della psicologia. Visto che non viviamo dei tempi, diciamolo tutto, molto sereni, e quindi, almeno sulla moda, trattiamo di dare un po' di colore, ecco. Il colore per me è fondamentale, perché, a parte le donne che hanno anche esigenze di linea, quindi ovviamente il nero è molto comune, la signorina adesso no, però in generale il nero è quello che maschera il nero di tutti. Però l'uomo invece, di solito l'uomo normale, classico, oppure non si dà più di tanto pensiero per il colore, invece le persone che hanno quello stile che dicevi prima a te, il colore per loro è veramente fondamentale, perché sono i colori solari, per la giornata di pince, per il mio corso ciamolo, per farciò una giornata d'inverno, per la mia giornata, cioè nel senso, ci sono veramente delle sfumature che ti danno giustamente una motivazione per vivere, per gioire. Assolutamente, condividiamo tutto, assolutamente, ma non potevamo, cioè quello che il signor Chico Riva lo dice, è detta legge, diciamo così, anche dal punto di vista dello stile. Dicevo che è il mio padre morale, il signor Chico Riva. E' vero, meglio lui chi è Gở. Capra! Capra! E tu mi hai detto praticamente, e adesso lo dicevo, lui ha questo stile, il signor Vittorio ha lo stile qua, lui deve per forza, forzatamente, continuare a fare questo stile aggressivo, perché lo conoscono in questo modo, se cambia danno sarebbe da lui, e certe volte esagera perché sa benissimo che lo invitano nelle premissioni per questi espluà che sono espluà poi esplosivi ma che poi a fin fine pretestuosi perché prende sempre spunto da qualcosa che non gli va, che dice l'altra persona, però l'altra persona dice anche delle cose che non siano tutte sbagliate solo perché non vanno bene a lui, aggredisce e diventa così, ma è il suo stile se non fosse così io sarebbe conosciuto però è un uomo di talento, cioè lui la cultura io lo annovo lui è molto colto nel quanto riguarda l'arte, ha studiato e poi ha anche sopravvalutato però comunque diciamo dal punto di vista di notte, infatti è stato anche ministro, ha diventato morale eccetera eccetera lui per amore di Dio sul suo settore niente da dire perché però certe volte esola un po' dal suo settore quando va in politica, quando va in uno spettacolo eccetera eccetera dovrebbe essere un po' più moderato perché sono i scherzi del showbiz ma lui dice quello che pensa, è giusto? ecco quello volevo dire io condivido, ci deve essere un po' di diplomazia, fa parte del codo di ogni maniera però sgarbi sgarbi, sgarbi sgarbi, non possiamo fare il niente si può per me c'era di tutto anche in nature day, in nature day Hitler è un persona qui di scala anche se è un po' colorato, no? questo è il mio stile, io veramente vi ringrazio ma più che Hitler, direi di Rottermeier no, perché Hitler è un personaggio maschile tu la presenti più dalla Rottermeier che comunque era un Hitler in una bornella ecco, ecco, con chi qua adesso ho superato questa cosa tra l'altro non l'ho messa io, me l'hanno messa questa titolatura di Hitler già, ho fatto un progresso, dai diciamo la cosa, sono più femminile insomma, almeno quella io vi ringrazio davvero, grazie mille per il sistema grazie a voi perché ognuno di voi siete dei grandi imprenditori, dei grandi talenti siamo fashion, noi siamo fashion assolutamente invitiamo anche te e spettatori, facciamo una piccola festa vi aspettiamo qui al centro conferenza Forte Fuente grazie, la cucina vietnamita ciao